Avete mai pensato che la musica può essere uno strumento utile non solo per far attormentare i vostri bambini, ma anche per parlare loro del sonno, per far passare la paura del buio, per accompagnarli verso il lettino o addirittura per farli sognare? Venite con me! Ciao, sono Maribea. Il primo aprile uscirà Nanna Sicura Senza Paura, un progetto musicale innovativo e originale per aiutare voi genitori ad approcciare e gestire il sonno dei vostri bambini in modo nuovo ed efficace. Sarà disponibile su Spotify, Apple Music e su tutte le piattaforme streaming e download. E su Bandcamp troverete i testi, gli accordi e le tracce strumentali per cantare e suonare le mie canzoni direttamente voi ai vostri bambini. Nanna Sicura Senza Paura. Mai più Senza.